Mic Cosentino, imprenditore digitale e CEO di Ulama. Io, Mic, come sempre ti saluto e ti ringrazio per essere qui con noi. Ciao, ben trovato. Ciao, è un piacere, come sempre. Eccoci, Mic, abbiamo visto l'intelligenza artificiale, tutto il mondo che riguarda chat GPT continua a creare forti discussioni, soprattutto dopo la scelta del garante della privacy di bloccare questa applicazione in Italia. Ecco, è stato invocato il problema che riguarda proprio l'utilizzo dei dati personali, però io ti chiedo, è veramente questo il motivo o ci sono altre ragioni proprio più profonde, anche a livello istituzionale, che hanno determinato questa soluzione? Sì, penso che non sia assolutamente l'unica ragione. Se dovesse essere l'unica ragione abbiamo un sacco di incongruenze che purtroppo vanno risolte, a partire proprio dall'utilizzo dei classici social media. Sono d'accordo anche sul discorso, in questo caso magari del garante della privacy, in merito a una verifica magari dell'età di minori. Ma sappiamo benissimo che oggi i minori sono molto più smart e svegli di tantissimi boomer, tra cui tra un po' mi ci considererò anche io, insomma vado per i 40 anni. Però, per dire, quindi i giovani stessi sanno esattamente che magari andando su Snapchat, andando su TikTok, trovano l'altro ragazzino che gli dice Ehi, guarda che per usare CiaGPT in Italia puoi tranquillamente utilizzare questa applicazione, questa VPN, oppure questo browser ed è legale, oppure altre piattaforme che si poggiano su CiaGPT in termini di API, ma non sono assolutamente bloccate. Quindi non penso che sia l'unica ragione che ha spinto questo blocco, penso più che ci sia qualcosa che riguardi la tutela probabilmente di un tessuto lavorativo su cui il nostro paese si basa tantissimo, che sono molti lavori ripetitivi, che sicuramente possono essere facilmente sostituiti da intelligenza artificiale. Penso che sia più una questione che riguardi ciò, piuttosto che un discorso di tutela, perché ripeto, altrimenti vedo troppa incongruenza su tutto. Abbiamo dato un sacco di dati e continuiamo a darli ai cinesi per TikTok, cioè allora non dovremo permettere, come non permettiamo ai minori di 18 anni di guidare una macchina, non dovremmo permettere a un minore di 18 anni di comprare un cellulare e quindi di avere TikTok, perché TikTok magari è uno strumento di manipolazione di massa assurdo e che non fa sicuramente bene a un minore soprattutto, o più che altro gli dà una chiave di accesso a determinate conoscenze che magari non dovrebbe avere, che magari un ragazzino di 12 anni non dovrebbe avere. Quindi dovremmo guardare allora la cosa da uno spettro molto più ampio se dovesse essere per davvero una tutela privacy, vi dicendo. Cioè veniamo anche da un periodo in cui la privacy è stata completamente un tabù, no? Cioè dovevamo condividere con chiunque dove stavamo andando, con chi eravamo stati, chiedere i permessi. Quindi non lo so, vedo troppa incongruenza, sono sincero in questo. Chiaro, chiaro. Ecco, la privacy insomma non può essere l'unica ragione che sta dietro questa scelta. Sicuramente c'è il grande tema dell'automazione del lavoro, della sostituzione di determinate professioni. Tu hai detto a rischio, sono naturalmente quei lavori, quelli più ripetitivi. Ecco, possiamo fare appunto un quadro della situazione? Secondo te, chi è che rischia di scomparire proprio dal mercato? Sì, allora qua ci sono tantissime diatribe in realtà perché la capacità dell'intelligenza artificiale non è probabilmente ancora nota a nessuno se non ai piani veramente alti. Hai citato prima Elon Musk, ecco, persone magari di quel tipo sanno sicuramente cose che noi non sappiamo inevitabilmente. E quindi si pensa inizialmente che i lavori a rischio saranno quelli là monotoni, oppure quelli abbastanza ripetitivi o quelli che si basano ad esempio su leggi. Quindi ipotizziamo un avvocato oppure ipotizziamo un notaio. Tutti i lavori dove non c'è sostanzialmente quasi, cioè non si può opinare una determinata cosa. Perché così è, la legge dice questo, tu hai fatto questo e quindi per definizione tu hai sbagliato oppure questa cosa va fatta in questo modo. Affidarsi sicuramente in futuro ad un'intelligenza artificiale che è priva di emozioni, è anti-incorruttibile e soprattutto non ha bisogno di riposare, non è stressata dal troppo lavoro, non è stressata dalla recessione, non è stressata dai politici, non è stressata dallo Stato, non è stressata da nessuno. Ed è lì per svolgere il suo lavoro e ti ringrazierà sempre e comunque, batterà sempre purtroppo l'essere umano. Ma ci sono anche altre condizioni in cui si sta notando come i lavori creativi, quindi ad esempio gli artisti, i musicisti, cioè stanno già uscendo le prime canzoni rap create dall'intelligenza artificiale e fanno paura. E gli scrittori anche, Mick. Sì, sì, è follia. Quindi anche a livello creativo si riesce a fare una cosa del genere. E quindi in realtà penso che si andrà in una direzione dove sicuramente dobbiamo andare a proteggere in qualche modo alcune classi necessariamente lavorative, almeno nel breve medio termine, per darci il tempo. Cioè in realtà penso che tutta questa cosa sia stata anche un motivo di rallentamento in qualche modo. Cioè prendiamoci del tempo perché vogliamo capire in che modo reagire alla cosa. E ci potrebbe anche stare. Però sono veramente tanti i lavori e le aziende se ne rendono conto in un periodo come questo, dove siamo in recessione magari non ancora ufficialmente dichiarato, comunque stiamo pagando lo scotto di tutto quello che è stato magari il classico quantitative easing che abbiamo avuto post pandemia e via dicendo. Le aziende giustamente si guardano, c'è inflazione, quindi il consumo in qualche modo viene meno. Le aziende quindi però devono profittare, devono avere più profitto. Il modo migliore per avere più profitto è tagliare i costi. E quindi se io posso tagliare i costi facendo meglio H24, sette giorni su sette, senza lamentele, senza pagare magari un euro, inevitabilmente l'azienda a un certo punto deve guardare la sua sostenibilità. Quindi sicuramente è una cosa che stravolgerà e sta già stravolgendo in realtà il mondo lavorativo. Chiaro, chiaro. Miche, però ecco, a proposito proprio del livello occupazionale, sicuramente ecco ci sono delle professioni che sono destinate a scomparire, ma altre invece che potrebbero emergere grazie proprio al digitale, allo sviluppo tecnologico. Ma dobbiamo parlare in questo caso di formazione, perché lo sappiamo soprattutto in Italia c'è un forte dismatch tra appunto le competenze che sono richieste dal mercato, che servono e quelle che poi sono veramente disponibili. Ecco, sulla strada della formazione quali suggerimenti ci puoi dare? Sì, allora la prima cosa è appunto cercare in qualche modo una formazione che sia, possiamo chiamarla extrascolastica, perché ahimè, e vengo da una famiglia di insegnanti perché mia mamma è insegnante, però ahimè il sistema scolastico nostro purtroppo è molto lento a cambiare, cioè mia mamma ha insegnato fino all'anno scorso e può confermare che la maggior parte del programma scolastico è lo stesso di quando andavo io alle elementari, o quando andavo io alle medie, o quando andavo io alle superiori, e che è paradossale perché in 15 anni, 20 anni fa non avevamo l'iPhone, non avevamo la tecnologia che abbiamo oggi praticamente, quindi c'erano i primi cellulari, quindi è paradossale che andiamo ad imparare ancora oggi delle cose che non servono più, cioè la maggior parte delle cose che si insegnano, si insegnano perché all'epoca non esisteva Google e non esisteva sicuramente già GPT, quindi dobbiamo andare un attimo fuori dalla nostra zona scolastica per così dire e cercare di capire in che modo l'essere umano può trarre il massimo beneficio dall'intelligenza artificiale, è una cosa indomabile, cioè per quanto uno possa cercare di controllarla penso che sia assolutamente indomabile e ci sono già soluzioni che sono totalmente decentralizzate, quindi che non sono centralizzate e non puoi bloccare, sono sulla blockchain e non le puoi bloccare, cioè proprio per definizione, quindi è una cosa indomabile e quindi la domanda è come possiamo essere al 100% delle persone, dei compagni perfetti per questa intelligenza artificiale e quindi lavori come ad esempio il prompt writer, quindi coloro che sapranno esattamente o sanno già esattamente, io ad esempio posso definirmi uno di quelli perché ci ho studiato ovviamente per cosa mia personale e anche lavorativa, ho dovuto capire come funziona, se io parlo con CiaGPT, chiunque può parlare con CiaGPT, ok magari adesso in questo momento no, ma le risposte che vengono fuori non sono uguali, non sono le stesse, sono direttamente proporzionali alla qualità della domanda che tu fai, quindi se io ti chiedo, guarda per favore scrivimi una mail perché devo vendere questi occhiali, lui mi darà un'email abbastanza sterile in relazione a quella che è la mia domanda, se io inizio a dire a lui ascolta, agisci esattamente come il mio copywriter esperto che ha dieci anni di esperienza, ho bisogno di scrivere queste mail, deve essere persuasiva, deve avere queste leve, deve scrivere in questo modo, deve vendere questo prodotto, deve utilizzare la logica, la paura, il fear of missing out, fai una call to action in questo modo, struttura questo template e segui questi schemi e poi fai questa call to action, la risposta che viene fuori è migliore di quella che potrei dare io, cioè è fenomenale e quindi noi dobbiamo sapere in che modo comunicare, non penso che sicuramente i lavori piatti tra virgolette verranno sostituiti ma tutta l'altra fascia di lavori dove c'è bisogno comunque di quel componente umano, io penso che anche i lavori più piatti, se ci mettiamo il componente umano possono fare un'enorme differenza sul mercato lì fuori per i clienti e per noi, avranno la meglio su questo, quindi in che modo possiamo dare il nostro valore aggiunto e farci alleati questi robot, questa intelligenza artificiale che altrimenti ci sostituiscono, quindi io voglio farmelo alleato per avere dei super power, per avere dei super poteri, questo io penso che sia e come dovremmo vedere l'intelligenza artificiale più che essere spaventati. Chiarissimo, ecco a proposito di essere spaventati tra l'altro tu Miche hai utilizzato un'espressione particolarmente efficace, cioè di l'intelligenza artificiale come una forza indomabile, ecco a proposito di questo c'è stata una lettera firmata da alcuni imprenditori tra cui lo stesso Elon Musk, altri imprenditori statunitensi e anche alcuni scienziati proprio per chiedere la sospensione, uno stop di sei mesi allo sviluppo di sistemi più potenti di chat GPT4. Ecco, innanzitutto ti chiedo questo stop è giustificato e soprattutto quali accorgimenti in termini di regolamentazione dovremmo mettere a punto per evitare determinati rischi? Sì, io sono totalmente d'accordo, cioè in realtà mi viene difficile essere in disaccordo con menti di questo tipo che hanno creato prodotti che noi utilizziamo tutti i giorni, quindi bisogna avere un altro livello di pensiero e quindi sicuramente è solo una cosa che dovrebbe far ragionare, cioè penso che chiunque dica no no Elon Musk sta sbagliando, io sono sempre per dire hai più risultati di me nella vita? Sì, devo ascoltare, insomma c'è poco da fare, non posso pretendere io di avere ragione, ok? Se no sarei io a quel livello. Quindi la problematica secondo me principale riguarderà e riguarda deepfake, quindi tutto ciò che può essere facilmente confondibile, fakeabile possiamo dire brutto come parola però insomma tutte le fake news è un problema, cioè oggi viviamo in una società dove internet è a disposizione di tutti, social media sono a disposizione di tutti, abbiamo visto cosa è successo negli ultimi due o tre anni con lo spread, con la divulgazione delle deepfakes, no? E quindi con tutte le fake news, quindi c'erano già le fake news e non c'era l'intelligenza artificiale, adesso abbiamo iniziato a vedere girare magari foto di, non lo so, Elon Musk arrestato, Elon Musk o Trump in una cella insieme agli alieni rinchiuse e sembrava effettivamente vera, oppure speech di presidenti degli Stati Uniti d'America di una volta che parlano esattamente come se fossero live in questo momento. Quindi quella è la pericolosità, come l'ultime news che sono uscite in Italia, insomma io me l'hanno comunicato qualche giorno fa, ho anche fatto un'intervista qualche giorno fa, ieri penso, su questa applicazione che i giovani stanno utilizzando per denudare sostanzialmente con l'intelligenza artificiale compagni di classe, cioè siamo alla follia più totale, cioè sono applicazioni che ovviamente sono molto pericolose perché poi cadono in reati per cui c'è la reclusione per molti anni e che soprattutto creano magari delle problematiche anche interne, mentali, di vari ragazzi, minorenni. Quindi una regolamentazione da questo punto di vista deve essere assolutamente presa in carico, il problema è che i governi sono lenti e la tecnologia è veloce, quindi o hanno teste smart o collaborano con persone di questo tipo e si fidano o la vedo veramente difficile, però vedo giusto il bloccare lo sviluppo, però vedi già com'è la differenza, un conto è bloccare l'applicazione, no non la puoi usare, non è così, si può usare se uno, cioè chi già sta usando sa come usarla, cioè è inevitabile, anzi secondo me aumenti ancora di più l'utilizzo di cose che magari non si dovrebbero utilizzare. Ma dall'altra parte invece blocchiamo lo sviluppo di... Allora quello sì, perché in realtà oggi penso che c'è GPT, se dobbiamo prendere solo questa come intelligenza artificiale, ma ce ne sono tantissime altre, è utilizzata forse al 5% di quello che può fare, quindi che senso ha continuare a sviluppare quando ancora l'umanità non è pronta neanche a sfruttare il 70% di quello che abbiamo creato. Chiarissimo. E a proposito ecco di regolamentazione dei rischi legati all'intelligenza artificiale, abbiamo commentato proprio questa mattina le ultime dichiarazioni che sono arrivate dall'amministratore delegato di Google, Sandor Pichai, che ha detto che per l'intelligenza artificiale servirebbero delle norme simili a quelle che vengono utilizzate per le armi nucleari. Ecco, tanto per far capire appunto la portata, la forza dirompente ecco di queste applicazioni. Ha utilizzato sicuramente una metafora molto efficace, un paragone efficace. Mic, ecco io in conclusione di questo approfondimento vorrei tornare proprio sulla questione economica, risvolti economici dell'uso dell'intelligenza artificiale perché ecco ho sentito una dichiarazione interessante che coglie un po' il punto di uno scienziato il quale diceva in realtà nel futuro la vera battaglia non sarà tra uomo e macchina ma chi trautilizza le macchine e chi no. Ecco questa è la vera discriminante per quanto riguarda l'immediato futuro. E ecco questo blocco, appunto torniamo sul blocco di chat GPT, potrebbe influenzare in modo negativo le PMI italiane, farle restare in diretto? C'è il rischio che l'Italia resti indietro rispetto al resto d'Europa e ovviamente al resto del mondo? Allora bellissima domanda e onestamente sono totalmente d'accordo con questa dichiarazione, mi piace tantissimo. È un po' lo stesso concetto di quando si diceva se hai un'attività o sei online o se non sei online figlio mio a un certo punto chiuderai e così è successo. Stessa cosa, o adotti le macchine o prima o poi purtroppo rimarrai indietro. Sicuramente penso che sia assolutamente importante comprendere questa dinamica e vedo un sacco di risvolti sinceramente positivi in termini monetari, in termini economici e per quale ragione? Perché sono opportunità, cioè noi abbiamo l'opportunità di avere una macchina che ci permette di andare molto più veloce e per le PMI non penso assolutamente che sia un problema e questo blocco, sono sincero, parlo con tantissimi imprenditori, tantissimi professionisti, mi spiace anche dire queste cose ma sono totalmente trasparente, ma nell'esatto momento in cui CACPT è stata bloccata le persone che stavano utilizzando e stavano già avendo profitto grazie a CACPT, 30 secondi dopo sapevano esattamente già come utilizzarlo e quindi sono continuati ad andare avanti. Quello che mi preoccupa invece è la massa, cioè che poi è la maggior parte del tessuto sociale italiano e quindi sicuramente sarà un grande spaccato, quindi c'è la massa che non sa esattamente come, né come utilizzare, non è formata, non sa cosa sia un prompt, non sa cosa sia neanche CACPT, è ovvio che quella rimarrà indietro e penso che però si stia facendo peggio perché così andiamo ad assottigliare ancora di più quella classe media che sta scomparendo sempre di più. Certo, ecco, dici che il mancato uso della tecnologia e tutto ciò che serve a livello di formazione per utilizzare al meglio la tecnologia potrebbe essere in futuro anche una discriminante a livello economico tra appunto chi la usa e chi guadagna e chi invece non la sa usare e rimane indietro e abbiamo detto che riguarda questo gran parte della popolazione perché in Italia le competenze digitali non sono di certo così sviluppate come negli altri paesi, certamente ecco un punto su cui ragionare. Michio ti ringrazio davvero per questo approfondimento, ti aspetto naturalmente ancora sulle fonti perché lo abbiamo detto, tutto il discorso che riguarda CACPT, l'intelligenza artificiale perché ne esistono anche altre naturalmente addirittura più potenti, non si esaurisce certo qui ma continua perché gli aggiornamenti sono continui, quindi veramente grazie e ti aspetto ancora sulle fonti per continuare a parlarle insieme. Certo è stato un piacere, ciao a tutti. Grazie.